salve a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi andremo a vedere uno dei nuovi protagonisti della scena di war thunder introdotto nel big update apex predator insieme a f16 mig 29 e tornato ecco a voi la 6e intruder versione tram ovvero una delle versioni più recenti dell'aereo con visuale termica aggancio radar e soprattutto contro misure e rilevamento missili piccolo accenno storico la 6 intruder nella sua versione originale fu concepito come interdittore nucleare ma come ci insegna la storia non fu necessario il suo utilizzo in questa maniera bensì venne utilizzato a partire dalla guerra del vietnam fino all'operazione desert storm come bombardiere sia ad alta che a bassa quota non serve che io vada a spiegarvi il modo in cui venne utilizzato durante i primi conflitti ovvero la guerra del vietnam e successivi andremo invece ad analizzare la versione proposta da war thunder ovvero la 6e tram per cominciare la sigla tram sta per target recognition and attack multi sensor ovvero il sistema a guida laser che troviamo sul fronte del dell'aereo una piccola telecamera con aggancio laser per il bombardamento di precisione l'aereo in sé per sé monta diversi tipi di armamenti tra cui gpu bombe da 2000 libre bombe incendiarie e pod lancia razzi anticarro oltre a cannoni da 20 mm aggiuntivi di base l'aereo in questione non ha armamento difensivo non ha mitragliatrici o cannoncini già impostati sul su di sé ma appunto potete inserirli come armamento secondario come detto prima è presente una serie di modifiche con all'interno cannoncini da 20 mm infine per contrastare le minacce aeree dispone di pod lancia contromisure per un totale di 960 colpi e missili aria aria am 9g e am 9l sidewinder missili antiaerei con i primi solo aggancio in posteriore a 5 chilometri e mezzo o i secondi am 9l con aggancio posteriore a 6 chilometri e aggancio in qualsiasi vista quindi anche frontale a 3 chilometri è un aereo multiruolo quindi potete utilizzarlo come preferite io personalmente non mi lamento della sua versione antiaerea ovvero solo con em 9l impostati ha una buona precisione ha una velocità massima di mille chilometri orari il tempo di rotazione è un volento sono 49 secondi ha un tasso di salita di 44 metri al secondo fino ad arrivare a quota massima di 12.300 metri le sue bombe sono parecchio precise l'aggancio radar è particolarmente semplici da utilizzare soprattutto per chi come me tempo addietro compro anche la 10 e direi che non c'è nient'altro aggiungere su questo aereo vi ricordo di seguirmi su social instagram e facebook per rimanere aggiornati sui miei futuri video e sulle live che faccio in maniera quasi costante iscrivetevi se vi piacciono i miei contenuti e noi ci vediamo a un prossimo video ciao 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 ciao